Qualche giorno fa sono state depositate, sono state rese note le motivazioni della sentenza del Borsellino Quater che hanno rilevato depistaggi istituzionali. Che idea si è fatta? Sì, è già un processo che si era concluso nell'aprile scorso, il cui dispositivo già era abbastanza pesante. Sì, ovviamente con le motivazioni sono state rilevate ma devo dire anche scritte in maniera molto puntuale e precisa delle pagine buie, credo le più buie che questo paese abbia attraversato. Si evidenzia in maniera molto minuziosa, ripercorrendo le varie tappe, quello che è stato definito il depistaggio, uno dei depistaggi più gravi della storia di questo paese. Un falso processo in sostanza dove la verità è stata allontanata per tutti questi anni, ne sono passati 26 dall'Eccidio, costruendo appunto un processo su falsi pentiti. pentiti, costruiti a tavolino tra lusinghe e torture, credo l'ennesimo oltraggio, l'ennesima offesa fatta non soltanto a chi come noi familiari ha perso i propri cari, ma credo l'ennesima offesa e l'ennesimo oltraggio alla buona fede e alla intelligenza del popolo italiano. Nella sentenza si fa riferimento a chi ha gestito collaboratori di giustizia in modo evidentemente infedele. Lei ha anche, in altre interviste, ha puntato anche l'attenzione non soltanto sugli investigatori ma anche sul ruolo di alcuni magistrati. Il processo, come già evidenziato in tantissime interviste, presenta delle gravissime anomalie che riguardano sia la conduzione delle indagini, sia la conduzione dei processi. Mi riferisco in particolare all'Uno e al BIS. C'è un peccato, credo, originale da evidenziare. Sicuramente questo eccidio, uno dei più gravi della storia di questo paese, non si meritava una procura composta in tal modo. Un procuratore, Tinebra, che non eccelleva sicuramente per l'esperienza in campo di reati mafiosi. E' procuratore, appunto PM, come lo stesso Carmelo Petralia, ebbe a rilevare in una deposizione al Borsellino Quater, che non si era mai prima di allora occupato di mafia. Lo stesso vale per giudici alle prime armi, come il dottore Di Matteo. Ecco, io credo che questo tragico eccidio non si meritasse, diciamo, una procura di inesperti. E in ogni caso, dico, al di là di tutto, va fatta luce su quelle che sono state le anomalie, sia di carattere investigativo, sia di carattere processuale. Ricordo che per questo tipo di indagini un ruolo fondamentale l'hanno i poliziotti o comunque gli investigatori, che sono comunque coordinati e controllati da un'attività primaria, che è quella della magistratura. Ecco, in queste procedure sono state disattese veramente le regole minime. E' vero che furono allora dati pieni poteri al super poliziotto Arnaldo Labarbera, ma questo non vuol dire una gestione, diciamo, indiscussa e indiscutibile, priva di qualsiasi forma di coordinamento e di controllo. Ecco, io credo, e qui appunto concludo con una precisazione, che su queste anomalie bisogna fare luce. Tra l'altro voglio ricordare, leggendo proprio un passo della sentenza, come non si tratti di semplici distrazioni. Leggo un passo della sentenza dove si dice chiaramente come le numerose oscillazioni e ritrattazioni di Scarantino avrebbero dovuto consigliare un atteggiamento di particolare cautela e rigore nella valutazione delle sue dichiarazioni e una minuziosa ricerca di tutti gli elementi di riscontro, positivi o negativi, che fossero, secondo le migliori esperienze maturate nel contrasto alla criminalità organizzata e incentrate, diciamo, in quello che veniva, ecco, definito il metodo Falcone-Borsellino che, diciamo, è evidente che è stato totalmente disatteso. Ricordo come l'attività, cioè, ricordo come già nel Borsellino-Terre i giudici sconsigliavano di dar seguito a Scarantino, ma nonostante tutto, alle dichiarazioni di Scarantino, ma, nonostante tutto, si è andati avanti fino alla condanna all'ergastolo di sette persone innocenti che hanno scontato anni ingiusti di galera, salvo poi il tutto, ovviamente, risolto, sconfessato con il processo catanese di revisione. A questo proposito, lei ha fatto dei nomi, ha parlato di Anna Maria Palma, appunto, di Petralia, di Tinebra, dello stesso Nino Di Matteo, a proposito della gestione del collaboratore Scarantino, del finto collaboratore Scarantino. Come ho detto, la procura era, diciamo, la procura che ha imbastito questo processo, che poi era un'impalcatura vuota e, tra l'altro, l'ha imbastito, nonostante le avvisaglie, nonostante le lettere del PM Boccassini, la quale addirittura prende, a un certo punto, le distanze dai suoi colleghi. Lettere durissime dove lei addirittura, e questo è un paradosso, intima i colleghi ad attenersi, soprattutto nelle verbalizzazioni, all'applicazione delle norme del codice di rito. Ecco, nonostante questo, nonostante le continue ritrattazioni e oscillazioni di Scarantino, nonostante questi pentiti, Scarantino, Candura e Andriotta, che non sono stati mai, dico mai, messi a confronto, nonostante fossero pentiti, che si rincorrevano l'un l'altro per far convergere le loro dichiarazioni in un'unica versione, nonostante sopralluoghi non verbalizzati, dove lo stesso Scarantino dimostra di non avere conoscenza del luogo dove lui dice di avere imbottito la macchina di Tritolo. Ecco, nonostante tutto, anche lo stesso Di Matteo fu chiamato da Tinebra con lo specifico incarico di rivedere tutte le posizioni di Scarantino e mi risulta, diciamo qualcuno mi sventisca, se non è vero, che sono stati condotti ben cinque interrogatori su Scarantino. Nonostante... Dal PM Di Matteo. Mi risulta di sì. Nonostante tutto, nonostante tutto, si è arrivati al dibattimento con un'accusa, diciamo, e con la condanna di Scarantino. Io ripeto sempre, perché per me questo è un nodo, diciamo, primario che non è stato mai sciolto, impalcatura che sarebbe sicuramente crollata, qualora fosse stato depositato il confronto e fosse stato messo a disposizione del giudice terzo, qualora fosse stato depositato il confronto tra Scarantino e Pentiti Doc, come Cancemi, come Di Matteo, Mario Santo e come La Barbera. Che lo smentivano. Che lo smentivano. Io invito tutti a leggere veramente questo confronto sul quale si potrebbe realizzare veramente un dramma teatrale. A un certo punto Cancemi quasi prega, prega i magistrati di non credere a questa persona. Nonostante tutto si va avanti, non si deposita il confronto, che viene depositato anni dopo, ma solo dopo una durissima, durissima battaglia condotta dalle difese degli imputati. Ecco, ci sono non semplici distrazioni, ma anomalie che a nostro avviso vanno sicuramente accertate. Non è stato fatto un verbale importantissimo, che è quello appunto del sopralluogo al garage Orofino. Un verbale mai fatto e tra l'altro, cosa gravissima, mai nessun magistrato ha ritenuto di dover presenziare a tale sopralluogo. È come fare un'operazione al Papa e non stilare un referto medico. Lei, che idea si è fatta anche sul silenzio del Capo dello Stato, Mattarella, rispetto alle risultanze di questa sentenza Borsellino-Quater? Mattarella che è parente di una persona assassinata da Cosa Nostra. Ma io quando si è appresa la notizia della pubblicazione delle motivazioni, sono stata mossa da una forte urgenza emotiva a fare un appello. Un appello ai uomini delle istituzioni, al Presidente della Repubblica, in quanto Capo dello Stato e Presidente del CSM. Non l'ho mai detto sino ad ora, ma visto che mi viene rivolta la domanda, tengo a precisarlo. Il Presidente mi ha chiamata e quando io ho fatto questo appello, lui si trovava nei paesi baltici, credo, insomma era fuori per una missione, quindi non c'è una disattenzione, ma ci sono state grandi parole di conforto e anche di rassicurazione, non a noi, ripeto, ma all'intero popolo, di essere fatta questa rassicurazione, circa la volontà di fare luce, anche se, questo tendo sempre a sottolinearlo, la cosa grave, il grave danno, secondo me, irreparabile, che è stato compiuto, è l'avere fatto passare, l'avere fatte passare questi 25, 26 anni e quindi un tempo troppo lungo. E il passaggio di questo tempo probabilmente ha compromesso per sempre la possibilità di arrivare ad una verità concreta, anche se ho sempre ribadito che questo non è un motivo per abbandonare quel dovere morale che ciascuno di noi ha di chiederla, proprio questa verità. Lei, Fiammetta, ha anche parlato e accennato al dottor Giuseppe Ayala e alle fasi concitate nei momenti immediatamente successivi alla strage, come appunto la sua presenza in Via D'Amelio, è quello che ne è conseguito. Su questo che idea si è fatta? Ecco, su questo punto purtroppo ribadisco che è difficile farsi un'idea. È difficile farsi un'idea quando, per esempio, i chiarimenti, le deposizioni al riguardo date nel corso dei processi, mi è capitato di leggere alcune deposizioni del dottore Ayala sono così discordanti. Allora, io quello che dico è che qualsiasi cosa in questa vicenda triste ed amara non permette di farsi un'idea ben precisa, se non che ciascuno sicuramente ha avuto un ruolo fondamentale nell'evitare veramente che si arrivasse a un chiarimento. Tutto è andato storto, sembra che tutto veramente sia andato storto. Via D'Amelio trattata come una piazza dove potesse veramente passare una mandria di bufali e cancellare prove importantissimi perché di fatto in Via D'Amelio il 19 luglio è avvenuto questo, non è stato per niente preservato il luogo del delitto, sono state sconfessate veramente le minime regole di tutela di quelli che sono i reperti di una strage e la borsa di mio padre che tra l'altro è arrivata intatta, un po' carbonizzata ma intatta, era un reperto di strage da preservare, non era sicuramente un oggetto da far passare in modo sconsiderato da una mano all'altra e ripeto, io l'idea che mi sono fatta purtroppo è l'idea di tante versioni poco concordanti tra di loro e ripeto, mai nessun chiarimento né dal punto di vista giuridico ma né dal punto di vista morale umano è stato dato a noi familiari. Si è parlato di un amico che tra di suo padre, lei pensa a qualcuno, può non dircelo qui, ma ha pensato in questi anni a qualcuno in particolare? Anche questa domanda è molto difficile, è molto complicata perché per quanto mio padre ci tenesse al corrente ci facesse partecipare di tutta la sua vita lavorativa nei limiti del possibile perché ovviamente c'era una grossa ansia relativamente al fatto che bisognava preservare la nostra incolumità. Io non ho un'idea di chi tradì mio padre, è qualcosa che lui manifestò a due colleghi che lo trovarono un giorno nel suo ufficio in uno stato di grande prostrazione e non è una novità il fatto che mio padre appunto abbia detto che sarebbe morto quando altri lo avrebbero permesso, altri uomini sicuramente delle istituzioni. Ecco, una cosa che sicuramente posso rilevare è che qui i tradimenti veramente sono stati a tutti i livelli. Tradimenti, depistaggi, la verità che si è allontanata su quello che è successo. La domanda che mi viene anche dall'avere letto le motivazioni di questa sentenza recente del Borsellino Quater sulle responsabilità istituzionali, lei l'ha sottolineato, non ci fu distrazione. Ma allora, secondo lei, perché questi depistaggi? Chi e perché hanno voluto coprire coloro che hanno tradito lo Stato? Ecco, anche questa è una domanda molto difficile. Non è una novità la presenza di elementi esterni a Cosa Nostra nel momento, durante le operazioni di imbottitura della macchina, ecco, l'imbottitura col tridolo. Non è una novità il fatto che l'allora super poliziotto Arnaldo Labarbera fosse uno stipendiato del SISD, non è una novità che l'allora, pure il stesso poliziotto Bruno Contrada, non è appunto una novità che anche lui facesse parte del SISD. Ecco, qui io credo che ci sia un intreccio molto forte tra mafia e istituzioni, un intreccio che passa anche per quelli che erano i forti poteri economici di allora e di dominio pubblico che uno dei pallini di mio padre fosse proprio il dossier mafia appalti che fu prontamente chiuso pochi mesi dopo l'eccidio di via D'Amelio. Ora, io credo che su questi aspetti sicuramente non soltanto gli uomini interni a Cosa Nostra possono far luce, ma io credo che ci vorrebbe anche un grossissimo contributo da parte degli uomini, delle istituzioni che sanno. Ecco, un contributo di onestà. Per il resto io credo che ognuno se la debba vedere con la propria coscienza. Esiste sempre un momento in cui ci si guarda allo specchio prima di andare a letto e io appunto credo che questo esame di coscienza e questa vedersela con la propria coscienza alla fine sia qualcosa che prima o poi debba avvenire. Grazie. Grazie a voi. Grazie.